Abbraccio a tua figlia. Oggi nel bosco, Ellie ha scoperto un affascinante luogo storico. Un cimitero degli animali. Un posto in cui seppellire gli animali e commemorarli sembra spaventoso ma non lo è. È una cosa naturale, ma che morire è naturale. Una città utilizza questo luogo da generazioni. La gente viene a tenerci come dei rituali. Non è una storia attorno al fuoco. Sono sugli alberi qui fuori. Sono avvertimenti. Le tribù li intagliarono prima di fuggire. Temevano quel luogo. C'è qualcosa in quei boschi. Che risale a molto tempo fa. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. Qualcosa che... Il gatto era morto. Riporta chi se n'è andato. Georgie! So cosa pensi di fare. Ma nessuno ritorna come prima. Papino. Luis. Che sta succedendo? Abbraccia tua figlia. Non avrei dovuto mostrarti quel posto. Tua figlia non sarà l'unica a ritornare. La barriera è stata abbattuta. Abbiamo una seconda occasione. A volte la morte è meglio. Oooo... Ha, 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 ha... Aaaaaaah!